Presidente, un territorio con tante eccellenze, lei ha detto un territorio, una provincia dove c'è anche l'ILVA ma che non è solo ILVA e questo è il senso dell'iniziativa insomma? Assolutamente sì, vogliamo testimoniare che la Confindustria, il sistema industriale non è un sistema industriale ILVA dipendente, se lo è stato in passato oggi ehmè purtroppo quelle aziende non ci sono più quelle che sono rimaste si sono, hanno mutato, hanno differenziato prodotti, processi, mercati, metodologie, innovazione e quindi tutto questo fa sì che oggi ci sia in un percorso diverso, in un sistema industriale diverso che prevede anche ILVA ma non solo ILVA. Sindaco, le amministrazioni comunali devono creare le condizioni favorevoli per le imprese, questo è anche lo spirito di questa iniziativa? Sì, assolutamente sì, noi dobbiamo avere un rapporto diretto con i cittadini e dobbiamo avere un rapporto diretto con le imprese per cui dobbiamo muoverci, dobbiamo avere un indirizzo che sia in linea con quelle che sono le richieste dei cittadini amministrare e delle imprese, amministrare senza avere questo tipo di rapporto non ha alcun senso vorrebbe dire realizzare ed investire quelle poche risorse che si hanno per dare luogo ad attività, ad iniziative che non hanno alcun senso non ha alcun riscontro dal punto di vista sociale ed economico, per cui questo incontro, questa riunione, questa vicinanza tra le imprese, la Confindustria e le amministrazioni locali certamente è positivo e certamente rappresenta un tavolo al quale ci si può sedere, importante da parte nostra per poter ricevere in maniera ancora più compiuta quelle che sono le richieste da parte delle imprese. Confindustria incontra gli amministratori del versante orientale della provincia di Taranto si parla di economia, di sviluppo e probabilmente dell'apertura di una nuova delegazione di Confindustria in questo versante, è così? Sì, in effetti oggi abbiamo già fatto un piccolo incontro a Manduria circa un mese fa oggi diciamo che abbiamo posato la vera pietra per far sì che ci auguriamo nel giro di qualche mese che possa nascere una delegazione del versante orientale. E questo che cosa significherebbe per quest'area che ha una forte vocazione agricola ma anche di piccola e media imprese? Ma noi naturalmente ci sono delle grandi potenzialità, oltre al discorso vinicolo, al discorso turistico che naturalmente vogliamo mettere in evidenza. Grazie